L'assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo annuncia che con provvedimento della giunta regionale è stata assegnata la somma di circa 14 milioni di euro all'ATERP Calabria per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e al completamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' stato infatti condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ITER per la sottoscrizione di un apposito accordo Stato-Regione disciplinante l'attuazione del programma finalizzato ad incrementare l'offerta di abitazione e locazione a canone sostenibile e la dotazione di servizi e infrastrutture di quartieri degradati. Con l'atto deliberativo è stato dato indirizzo all'ATERP Calabria di elaborare sulla base delle concrete priorità un elenco delle proposte di intervento che saranno valutate dal competente Dipartimento regionale e successivamente trasmessi al Ministero. Gli interventi saranno individuati nel rispetto del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. Le proposte devono prioritariamente riguardare il completamento degli stessi rimasti incompiuti ed immediata canteriabilità. Inoltre devono essere localizzati facendo riferimento all'incidenza del numero di alloggi da recuperare il rapporto al fabbisogno abitativo. Le proposte dovranno altresì prevedere azioni finalizzate alla complessiva riqualificazione dell'area, in particolare con riferimento al superamento delle barriere architettoniche e al miglioramento della qualità ambientale dell'area.